L'applausometro, ricordate che c'è l'applausometro, quando applaudite, c'è l'applausometro, abbiamo lo stranfiero lì che, boom boom, vabbè, facciamo una prova applausi, eeeh, si comincia a calare la palpebra, va bene, vediamo, adesso vi metto ancora la prova perché presentiamo la prossima, sempre la normalissima, sempre per la categoria editi, ma ci colleghiamo, colleghiamo subito con il backstage e Arianna. che ovviamente non si sente nulla, è una gag bellissima questa qua che ripetiamo perché la troviamo sempre molto divertente, lei canterà delle cose, c'è lo sguardo perso, non so cosa devo fare. ok, un applauso di incoraggiamento per Arianna, di teatro, faccio metti doppio io, allora, allora, presentiamo Elena Baldan, che canterà una canzone che è Etno Sunshine, una cover, da dove vieni Elena? da fosso, eeeh, quanti anni hai? quindi, diciamo Rilardo nel doppiaggio, eeeh, non farai perdere altro tempo, Elena, mandiamola subito sul palco! che buffone, allora, con, per la categoria editi, Eno Sunshine, ci accompagnerà la chitarra Elena Baldan! e la stiamo... ecco... e la stiamo... ecco... 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 Grazie. 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 Ecco, ricordatevi l'applausometro, lei ha 15 anni, Elena Baldani ha 15 anni, è accantata con una... ho fatto i complimenti a tutti, e questo perché se lo meritano. Devo dire che ha una grande maturità, cioè cantare una canzone così, acustica, e ha fatto una sua versione. Grazie. Bravissima. Grazie. Un grande applauso ancora per Elena Baldani. Rimaniamo belli caldi, siamo arrivati all'ultimo artista. Cosa brava.